Trovare parcheggio, la vera sfida quotidiana di tutti gli automobilisti delle grandi città. Trovarlo gratis, poi, può diventare addirittura un'impresa, perché il colore dominante delle strisce dipinte sull'asfalto è il blu. Parcheggiare qui significa sborsare fino a 2 euro l'ora, che andranno a riempire le casse dei comuni. Ma non appena si toccano le tasche dei cittadini, ecco che scatta subito la protesta. Troppe e troppo care, le strisce fanno infuriare i commercianti genovesi, che hanno appena vinto un ricorso al TAR contro il Comune. Mancanza di legittimità e invece l'accusa è lanciata un anno fa dai milanesi. E a Roma? Che succede? Sembra che anche qui la routine non cambi. I consumatori fanno ricorso al Tribunale amministrativo, mentre il Comune si rifà al Consiglio di Stato. Secondo la giurisprudenza, le aree soste a pagamento devono essere solo in centro città e in rapporto del 50% con i parcheggi liberi. Una sentenza della Cassazione aveva infatti stabilito nel 2007 l'obbligo per gli amministratori comunali di realizzare parcheggi gratuiti accanto alle bluare, rifacendosi all'articolo 7,8 del Codice della Strada. Ma se da un lato le strisce indispongono gli automobilisti spesso multati, dall'altro rappresentano una risorsa importante per i bilanci comunali. Il punto sta nel capire dove vadano dipinte. Nel frattempo, i trasporti pubblici potrebbero essere la soluzione per evitare lo stress da parcheggio. Oppure, per andare davvero sul sicuro, si può sempre fare un bel giro in carrozza.